Gentili telespettatori, buona giornata. Ellis Line, la capa del PD, dice che il governo è scellerato e provocatorio. Perché? Vediamo, ascoltiamo le sue rimostranze. Parla del decreto lavoro e dice che è un decreto che dietro a un taglio del cuneo che non è sufficiente e temporaneo, nasconde norme che aumentano la precarietà e che dicono che le causali dei contratti a termine possono essere stabilite nel confronto tra le parti, come se le parti avessero lo stesso potere perché una parte che è in grado di dare lavoro è un'altra che ha bisogno del lavoro per mangiare. Fare queste scelte vuol dire rendere lavoratrici e lavoratori molto più ricattabili. Tra i giovani c'è la paura del futuro perché se ha i contratti così precari è difficile costruirsi un futuro e una famiglia, per questo insistiamo che la questione della crisi, della natalità, è molto collegata alla precarietà. E se vuole invertire la rotta, dice la Schlein, la scelta del governo è la più sbagliata nella direzione più scellerata per il paese. Noi come PD scegliamo di essere al fianco delle persone. Ci stiamo battendo molto per il salario minimo e sulle tutele del nuovo lavoro digitale. Partendo dal fondo, sul salario minimo, questo governo ha sempre detto che non è per il salario minimo. Difficile che cambi idea perché salario minimo significa dire all'azienda devi pagare di più le persone, non tutte, quelle che hanno i primi livelli. Ad esempio bar, ristoranti, alberghi, piccole aziende, negozi di scarpe. Molte, molte aziende dovrebbero dare a quei dipendenti che danno 1000 euro al mese, non so, gelaterie, eccetera, eccetera, dovrebbero portare gli stipendi almeno a 1800-1900 euro lordi. Non più i 1200 lordi, ma i 1900 euro lordi. E quello che ha detto sempre la Meloni è stato dobbiamo lasciar fare le aziende, lo Stato non deve ostacolare le aziende, le aziende devono poter fare, creare, creare lavoro. Quindi il motto della Meloni è lasciare in pace le aziende, non tormentarle, non dargli carichi in più. Quindi è molto difficile, perché la Meloni crede che le aziende sono quelle che creano lavoro in Italia, sono quelle che mandano avanti il paese, quindi non bisogna dargli fastidio. Il salario minimo sarebbe altro che un fastidio, sarebbe veramente un qualcosa di veramente tremendo per negozi o aziende che dovrebbero quasi raddoppiare il costo del lavoro. Mettete un negozio di scarpe che ha tre dipendenti a 1200 euro o 1100 euro al mese, quegli stipendi minimo dovrebbero diventare 1900-1900-1900 lordi. Quindi è difficile che questo governo che predilige le imprese è difficile che cambi idea, anche perché se l'idea è che l'impresa crea lavoro e quindi il lavoratore ha il lavoro, se c'è l'impresa che crea lavoro, se dai fastidio all'impresa poi può essere che non c'è più neanche il lavoro da creare. Pertanto è difficile questo, la Meloni sta cercando il cuneo fiscale, la tredicesima, di comparare quello che potrebbe essere l'effetto di un salario minimo, ma è ovviamente impossibile. Pensate che questo cuneo fiscale viene tagliato da luglio al 30 di novembre, quindi si parla di sei mesi, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre. Cinque, sei mesi di taglio del cuneo fiscale e poi se non ci sono i soldi si ritorna alla situazione precedente con lo stipendio di prima, ecco, quindi lo Stato non ha i soldi per dare quei 20, 30, 50, 70 euro in più al mese, non può abbassare le tasse, se non lo sapete sarà lo Stato che in questi cinque, sei mesi darà i soldi all'Inps, sarà il governo che darà i soldi allo Stato, perché quei soldi lì che mancano, quei 4 miliardi, servono per la struttura dello Stato, ecco, quindi temporaneamente quei soldi che vengono dati dai lavoratori vengono messi dal governo nella cassa, quindi è una cosa momentanea, non è strutturale. Come vi dicevo, il salario minimo non devi metterlo tutto subito immediatamente, lo dividi in cinque anni, ogni anno fai un aumento del 18%, dico io. Quest'anno salario minimo 18% in più di quello che si stabilisce, prossimo anno un altro 18%, un altro 18%, per spalmare in almeno cinque anni gli aumenti dei salari. Per quanto riguarda il lavoro precario, quella è una scusa, nel senso che l'opposizione che punta al fatto che aumenta il precariato non è vero, è una bufala, è falso. Oggi sta aumentando il lavoro a tempo indeterminato perché le aziende hanno fame di lavoratori, non ci sono lavoratori e non ci sono lavoratori perché gli stipendi sono bassi e la gente non va a fare il servo di nessuno. Pertanto aumentano i lavori a tempo indeterminato e diminuiscono quelli a tempo determinato. Ci sono delle nuove regole, anche in questo caso per facilitare le aziende a creare lavoro, però la tendenza è un aumento dei lavori a tempo indeterminato. Quindi che stiamo andando verso la precarizzazione del lavoro giovani senza futuro è solo ed esclusivamente una panzanata elettorale per andare a protestare contro il governo. Quindi l'opposizione non ci sta facendo una bella figura andando a protestare su una precarizzazione che non esiste. Non c'è, questo bisogna dirlo, non c'è una precarizzazione, non c'è un aumento del lavoro temporaneo precario. C'è il lavoro precario perché c'è sempre stato ma è in diminuzione rispetto al passato. Arrivederci a tutti e grazie e ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti.